Quando stavo per darmi lo slancio per arrampicarmici senti una fitta al braccio sinistro. Mi girai distinto e ci trovai il muso di un cane da pastore belga che mi strattonava ringhiando. I panni pesanti avevano arginato i canini del cane che si erano comunque infilati nella carne e facevano male. Ringhiava e strattonava e non mollava. Da dove cazzo era uscito questo bastardo che mi stava facendo fare un balletto per il coltile per mantenermi in equilibrio? Se sono cani così aggressivi che non ti fanno neanche avvicinare alla loro proprietà e cani che sono così ospitali da farti entrare e non volerti più fare andare via a costo di strapparti la faccia a morsi. L'adrenalina di quei secondi non mi faceva sentire troppo male. Terei fuori dalla tasca con la mano libera il coltellino svizzero richiuso e lo impugnai forte. Colpii il cranio del cane a martello. Mollò leggermente la presa guaiendo per il dolore e ne approfittai per correggere rapidamente la mia posizione e sferrargli una ginocchiata sinistra nel torace più forte che potei. Cadde un metro indietro volando nella foschia. Si rialzò ma sembrava intontito. Non tanto per la ginocchiata. La botta al cranio doveva fargli vedere le stelle. Mi ringhiava minaccioso. Mi studiava. Ancora non domo. Stava recuperando per il round finale. Mi ringhiava minaccioso vuoi eisso Grazie a tutti.